il letto maupassant in un torrido pomeriggio dell'estate scorsa il grande edificio delle aste pubbliche sembrava addormentato e i banditori decretavano le aggiudicazioni con un filo di voce che smoriva al primo piano in fondo giaceva in un angolo un lotto di antichi paramenti da chiesa erano solenni piviali e leggiadre pianete in cui un ricamo a ghirlandette si avvolgeva attorno a lettere simboliche su un fondo di seta appena appassita da bianca diventata color panna in attesa c'erano alcuni ricattieri due o tre uomini con barba sudicia e un donnone dal gran ventre una di quelle rivendugliole di abiti e biancheria usati consigliere e protettrici di amori proibiti una di quelle che fa mercato di fresca carne umana e anche di vecchia così come tratta stracci vecchi e stoffe nuove fu messa in vendita una pianetina luigi quindicesimo graziosa come l'abito di una marchesa ancora fresca con una processione di mughetti in giro in giro alla croce e lunghi eros violacei che salivano sino al piede del sacro emblema lasciando negli angoli coroncine di rosa dopo averla acquistata mi resi conto che metteva ancora un lieve aroma come se fosse impregnata di incenso o meglio come se recasse in sé uno di quei dolci odori d'un tempo passato che sembrano fantasmi di profumi l'anima di essenze svanite dopo averla portata a casa mia voglio adoperarla per ricoprire una graziosa seggiolina della stessa epoca affascinante toccandola per prendere le misure sentii che tra le dita frusciava della carta scucii la fodera ed ecco che ai miei piedi caddero alcune lettere erano ingiallite e l'inchiostro impallidito sembrava ruggine una mano gentile aveva scritto su un lato dei fogli piegati all'uso antico al signor amate di Arzenzè le prime tre erano per fissare appuntamenti quanto alla quarta eccola qui amico mio sto male ho dolori dappertutto e rimango a letto la pioggia batte sui vetri e io sono mollemente colicata nel tepore delle piume e intenta a fantasticare ho qui un libro che mi piace e che sembra stato scritto con una parte di me stessa vi dirò qual è? no sarei rimproverata dopo averlo letto mi metto a pensare e ora vi dirò che cosa dietro la testa mi hanno messo dei guanciali che mi sostengono a sedere vi scrivo sul delizioso leggio che è stato un vostro dono poiché sono letto da tre giorni non faccio che pensare al letto ci penso persino quando dormo il letto amico mio è tutta la nostra vita nasciamo amiamo e moriamo dentro di lui se avessi la penna di crebillon scriverei la storia di un letto quante avventure commoventi tremende e quante avventure graziose maliziose ti sarebbero insegnamenti validi e riflessioni morali adatte a tutti voi conoscete bene il mio letto caro amico eppure non potete immaginare quante cose abbia scoperto negli ultimi tre giorni e quanto gli voglia bene mi pare abitato o meglio frequentato da tante persone che non conoscevo e che pure hanno lasciato la loro impronta in queste coltri proprio non riesco a capire la gente che compra letti nuovi letti senza memoria il mio scusate il nostro così vecchio così usato e così comodo ne avrà conosciute di persone dalla sua nascita alla sua fine pensateci amico mio pensate a tutto rivedete intere esistenze fra queste quattro colonne sotto questo baldacchino teso sulle nostre teste che ha osservato tante di quelle cose quante ne avrà vedute nei tre secoli della sua esistenza ecco una donna giovane distesa ogni tanto manda un sospiro un gemito i vecchi genitori le sono vicini ed ecco uscire da lei un esserino gnaulante come un gatto tutto contorto e grinzoso è una persona che comincia a vivere la giovane madre si sente dolorosamente felice quasi soffoca di gioia al primo vagito tende le braccia ansimante intorno a lei si piange con allegria perché quel pezzetto di carne viva che si è staccato dal suo corpo significa la continuità della famiglia della stirpe del cuore e dell'anima dei vecchi che stanno a guardare tremanti e poi ecco due amanti che per la prima volta si trovano carne contro carne in questo tabernacolo della vita tremano ma sono ubriachi di gioia si sentono vicini ed è una delizia a poco a poco le loro labbra si uniscono quel bacio degno di un dio li turba è la porta del paradiso in terra quel bacio canta le gioie umane e tutte le promette le annuncia e le anticipa il letto si muove come un mare in tempesta cede e sussurra sembra animato e contento perché il delirante mistero dell'amore si compie sopra di lui cosa c'è nel mondo di più perfetto di questi congiungimenti che formano di due un essere solo dando a ciascuno nello stesso momento un pensiero uguale un'attesa uguale e un'uguale gioia assoluta discesa come un fuoco divoratore e celeste ricordate quei versi di non so quale poeta antico forse ronsar che mi leggeste l'anno scorso e quando saremo a letto saremo intrecciati e lascivi al modo degli amanti che liberamente allegramente fanno sotto le lenzuola mille carinerie vorrei che questi versi fossero ricamati sul cielo del mio baldacchino da cui piramo e tisbe mi guardano incessantemente coi loro occhi di tessuto e pensate infine alla morte amico mio a tutti coloro che in un letto hanno esalato a dio il loro ultimo respiro il letto è anche la tomba delle speranze finite l'uscio che tutto chiude dopo essere stato quello che spalanca è il mondo quanti gridi quante angosce dolori disperazioni spaventose lunghi gemiti d'agonia brazza protese al passato e richiami a una felicità finita per sempre quante convulsioni e rantoli e smorfi atroci quante bocche contorte e occhi stravolti in questo letto da cui vi sto scrivendo nei tre secoli in cui ha offerto un rifugio agli esseri umani pensateci il letto è il simbolo della vita io me ne sono accorta da tre giorni non c'è nulla di più desiderabile di un letto morbido il sonno non rimane forse uno dei nostri momenti più felici ma il letto è anche luogo di sofferenza è il rifugio degli ammalati il luogo di dolore dei corpi estremati il letto è l'uomo nostro signore Gesù Cristo per dimostrare che in lui non c'era niente di umano sembra che non abbia mai avuto bisogno del letto è nato sulla paglia è morto sulla croce lasciando alle creature come noi il giaciglio della mollezza e del riposo quante altre cose avrei da dire ma non ho tempo di trascriverle tutte e non riuscirei neppure a farmele tornare alla memoria mi sento così stanca che adesso farò togliere questi guanciali mi sdraierò e dormirò un poco venite a trovarmi domani alle tre forse starò meglio e potrò dimostrarvelo addio mio caro amico vi tendo le mani perché possiate baciarle e vi polgo anche le labbra e vi tendo le mani a